Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Florence TV in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci ci sono due chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per traffico intenso rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e code a tratti tra Scandicci e Il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calenzano. Sulla statale Trebbis Tiberina per lavori sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna e Piave Santo Stefano Nord in direzione Orte. Sulla Fipili possibili disagi per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!